Amore, metti un milionario. Oh, questi sono i giochi che piacciono ai giovani, amore. Ma me lo piacciono, mi piacciono. Avakin Life, è un gioco virtuale. Movistar Planet. Ma che giochi sono? I migliori giochi per ragazzi adolescenti tra i 13 e i 18 anni. Allora, al primo posto c'è Flame Rouge. Ma che cosa? Ma che cosa? Ma il gioco del... I giochi in scato. È un gioco in scatola. Il milionario? No, le slot. No, raga, dai. Vuoi giocare le slot? No, non posso giocarci. No, giochiamo. Perché devi giocare, devi premere un tasto. Amongasma, non... Chiara, riesci a toccarti i gomiti tra di loro? L'avete già fatto. Grazie per la tua laurea, grazie Luca e grazie Enracone. E grazie Pinotto. Grazie Official Danul e grazie Rami. No, il collegio no. Il collegio non ci diciamo. No. Pokémon Poker. No, Poker non so giocare, raga. Oh, Pictionary. Bello, Pictionary. Però come facciamo? Non so, ci giocavo a Natale quando ero piccolo con la mia famiglia, devi disegnare le cose. Ma a Mongas come facciamo, raga? Come facciamo se non siamo con altra gente che conosciamo? Giochiamo a Geoguesser, amore. Quello lì è bello. No, amore, io voglio giocare, ti ho detto, un milionario o collegio. Facciamo scegliere la chat. Volete che... Chat, facciamo mod, mi fate un sondaggio, milionario o collegio? Dai. Sappiate che a me fa cagare il collegio. Collegio no. Il collegio no. Vedi. Dragonfly, grazie. Notifica. Riuscite a farmi una... Un sondaggio? Sì, milionario. Aspetta, c'è il sondaggio, amore. Mie mod... Se ci sono vere mie mod. Sì. Se mi fate un sondagione al volo, capiamo se è milionario o collegio. Poi vi devo raccontare, raga, sto organizzando dei formatini nuovi. C'ho anche una puntata prenotata per lunedì prossimo, poi ve la spiego. Cosa fare? Eccoli qua. Oh, milionario. Oh, quanto spacca, eh, che abbiamo i sondaggi. Ma che bello, perché poi è in tempo reale. Eh sì, è in tempo reale. Oh, sta vincendo il milionario di brutto, milionario. Dai, diamo io un attimo di tempo. Chi vuole essere milionario? Intanto lo cerco, eh. Perché per adesso sta vincendo. Chi... Sì, ma facciamo delle figure di merda, amore. Ma io, senza farmi sgammare, controllo tutto su. No, non puoi. No, dai. Chi vuole essere milionario, gioco. Vabbè, però abbiamo sempre l'aiuto della chat, no? Eh, credo. Chi vuole essere milionario? Ma non esiste il gioco. Ma qual è il gioco, raga? Milionario Quiz 2020? Sì, è questo. Ma no, ma non è questo. Qual è il gioco? Come si chiama? Su Steam? Ok. Cos'è Steam? Amore, se sei una boomer, non chiederci le cose. Steam è una roba per la gente che ne sa, ok? Come me. Negozio? Milionario. Non esiste. Come si chiama, raga? Come si chiama il gioco? Chi vuole essere milionario. Ah, Steam è qui. Scusate, scusate. Oh, 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 oh. Ok, qui. Ci fai vedere la tela che hai ricevuto oggi? È di una mia amica. E ce l'ho a casa, raga. Come faccio? Ma non c'è, raga, su Steam. Ma non lo trovo. Ma te lo stanno mandando, amore. Eh, ho capito. Non lo trovo. Aspetta. Incolla. Ricerca. Ma non c'è. Ma come è possibile? Ah, eccolo qua. Who wants to be a millionaire? Non è recensito benissimo. Vabbè. Lo scarico. Notifica. Come faccio a scaricarlo? Aggiunge il carrello. Ha vinto il milionario, amore. Palesemente. Di quanto? 71, 29. Ok, allora facciamo il milionario. Sto scrivendo avete già vinto. Grazie RK1, grazie. Brava, amore, abbiamo vinto. Bello, eh? No, ma non me l'ha comprato sto cazzo di cosa. Acquisto per me. Continuo. Accetto i termini e acquisto. Ma come fate a donargli i soldi? Dark, boom, doom. Sei un pirla. I soldi vanno in beneficenza. Pirla. Posso venire qua a fare l'accento in chat. Come fate a donargli i soldi? Cagare, vai. Scherzo. Che ha le ciele sudate. Dovete aver paura di quelli che ha di sudare le ciele così. Sono persone orribili, raga. Terribili. Io che sono una bella persona non mi sudano mai. Persone terribili, raga. Sono dei bulli. Hai ottenuto... Ho ottenuto dei punti Steam. Grande. Installo avanti. Sto installando il milionario, raga, eh? Mi sa che l'articolo che stavi leggendo dei giochi è stato scritto nel 2000. Quindi per boomers. Giusto, hai ragione. Grazie. Tipiscio in culo. Grazie per la sottoscrizione. Grazie ClickClackPow. Grazie Mickey. Grazie RK1. Grazie Boot92. Grazie Michele Sollimine. Grazie Dragonfly. E grazie Andrea Cobbino. E grazie per la tua laurea che era quello di prima. Va bene. Mod, se mi cambiate la categoria, chi vuole essere milionario? Poi smettetela di dire latte, grazie. Avete l'emoji, l'emozo, latteria, se volete scatenarvi. Questa cosa è tic tac, è diventata famosa perché è riuscita a mangiare un panino intero. È riuscita a mangiare un panino intero? Cioè nel senso guarda perché è mora. Io riuscirei pure io. Ma la batto. Raga, vi giuro che io la batto. Guardate. Allora devo dire anch'io, io ho provato una volta. Ma mi entra tutto il pugno in bocca, raga. Talento inutile. No, raga, ci mette troppo il milionario. Ma cosa? Ma ci mette così tanto? Tre ore? Ma com'è possibile? Tre ore per scaricarmi sto cazzo di milionario? No, non vi... Non faccio quella roba lì. Porca troia. Tre ore... No, non è vero, dai. No, no, ci sta mettendo di meno, raga. Ci sta mettendo di meno. Un minuto, cinque minuti. No, trentatré minuti, dice. Però secondo me ci mette di meno. Ci mette di meno. Grazie Francesco Monno. Grazie Cecco GP. Grazie Davide Ghidini. Save the date, raga. Lunedì. Dovrebbe essere trenta novembre. Checkami. Checkami, potatoes. Trenta novembre, ospite alle diciotto e trenta per il Boomer Podcast Live. Abbiamo... Aspetta che non... Cioè mi ricordo il cognome e non mi ricordo il nome. Scusate. Ok, sì, lo sapevo, avevo paura di sbagliare. Abbiamo ospite alla Tana del Boomerone. Gialluigi Nuzzi che esce con un nuovo libro. Un nuovo libro dal... Un libro bello che esce a breve. Cioè esce proprio a brevissimo. Un bellissimo libro che mi ha mandato oggi. Sto iniziando a leggere. Un libro di cui io mi ricordo assolutamente il titolo. E... I segreti vaticani tra soldi, sesso e sangue. Una sorta di libro nero. Mi dissocio. Cioè... Avete capito, no? I miei libri... Di chi è il quadro su preiletto? Brainwash? Il quadro su preiletto è di Brainwash. Sì, è di Brainwash. I suoi non sono libri contro la Chiesa e tantissimi preti lo sostengono. Lui era stato nello scandalo. Non so se vi ricordate... Nel 2015. Credo... Non mi ricordo perché. Non me lo ricordo in realtà. Ah, perché ha pubblicato un libro? Mi sembra di informarmi meglio con delle robe super segrete del Vaticano. Vabbè, comunque spacca, raga. Non so perché questo canale, quando facciamo i podcast, diventa una roba super esoterica sulla Chiesa. E in parallelo voglio anche leggere la Bibbia con Mauro Biglino. Quindi vi giuro che non è voluta sta roba. Vati l'X. Vati l'X, esatto. Vati l'X. Quindi vabbè, ci sarà lui venerdì. E poi, boh, forse domani leggiamo la Bibbia. Ragazzi, le le lezioni di chitarra non lo so, raga. Poi non so se ci sarò la settimana prossima. Cos'è, Thomas? Ragazzi, lasciatelo ogni tanto anche con me, però. Un saluto, Thomas Turbato. Mangia tanti panini, non solo boccone, ragazzi. Freeze Drumbox. Freeze Drumbox. Poi volevo fare un'altra cosa, raga, però ho paura di voi. Grande Fede, ti seguo dal 2011. Ero anche venuto al tuo concerto. I bei tempi in cui Gali ti faceva le doppie e tu facevi i pompini col culo a guepecchegno. Mi dissocio, io non ho mai fatto dei pompini col culo a guepecchegno. E, tipo, con il culo fai una sorta di pompino. Cioè, ci fai scappare. Sì, no, se no non si sarà... In attesa ti consiglio questo gioco. Cos'è? E qual'è? Questo gioco quale? Biglino e Don Alberto insieme. Biglino e Don Alberto non credo che Don Alberto voglia più fare cose con me, ma poi anche basta. No, comunque non ho mai fatto dei bocchini col culo, ci tengo a dire. Non si sarebbe mai arrabbiato con me, probabilmente. Gli sarebbe rimasto un buon ricordo. Notifica. Vabbè, dovete dire a Fede di farmi più coccole. Più coccole per la Ferri. Grazie Jackal. No, no. Zippippino, grazie. Grazie Joseph. Oh, due mesi. Quando fanno due mesi devi fare... Grazie Joseph per i due mesi. Così. Buon Natale. Grazie Sfrux. Ragazzi, ragazzi, gli dite per favore che deve farmi le coccole. Non mi fai mai le coccole, le fai per un minuto e poi ti annoi. Quando eri giovane... Guarda che Twitch non è la piattaforma dove... Cioè, non è tipo la riunione di condominio dove ti puoi lamentare. Quando eri giovane... Quando eri giovane... Non ero piccolo. Non ero piccolo. Quando ci cominciavamo a frequentare lì super coccolone. Adesso sei sempre... Boh... Non parti i cavoli tuoi. Beh, ti sembra il luogo adatto dove... Più coccole. Eh, voglio che la chat dica che deve fare più coccole. Va bene. Chat, scrivete che devo farle più coccole. Così che è contenta. Esatto. Coccola in chat. Grazie. Otto minuti, raga. Ci abbiamo il milionario. Intanto vogliamo collegio. Che mi sembra un'altra stronzata. Non basta questo collegio. Grazie. Gaet Costarella. Vedi che non mi stai facendo... Mi sono avvicinato. Ma amore, ma non mi sono allontanato. C'ho la sedia... C'ho la ruota con le... C'ho la sedia con le rotelle. Vabbè, non sai fare resistenza alla ruota? Non ero pronto al fatto che tu ti appoggiassi a me. Coccolami. Anzi, sto qua tu dico. Ma amore, ma sto facendo la live. Ma posso stare a coccolarti? Scusa. Ma come fai le carezie? Ma che cazzo... Oh, sei tutto sudato. Notifica. Perché le mani sudate? Perché mi sudano le mani. Sei agitato? Cinque anni di matrimonio hai scoperto adesso che mi sudano le mani? Perché quando sei agitato? Sì, mi agito quando sono in live. Mi emoziono. Perché sei agitato? Perché mi emoziono quando sono in live. Finalmente c'è una temperatura. Grazie sicuramente, no Giulia. Grazie Enzo. Hai cambiato la temperatura qua? Chiara non meriti coccole finché in ogni live posi il telefono. Se vai via settimana prossima lasciami la porta aperta che l'ultima volta che ho petardato siamo quasi crepati sia io che il Gremlins. Sono sempre io, il ragazzo nella tuta di Iron Man. Giusto. Ciao Iron Man. Oh, questa è una bella domanda, raga. Questa è una bella domanda. Guarda. È Dargen, cavolo. Dargen. Ma Dargen è la Taina del Boomer? Oh, grazie David Rubino. Grazie per Lost. Abbiamo giocato una volta da Among Us, mi ricordo. David Rubino. Tu lo conosci, David Rubino, vero? Ma come no, amore. Il gioco si chiama The Temple of No. The Temple of No. Dov'è? Dov'è l'è? The Temple of No. Non c'è, secondo me. The Temple of No. Avano in beneficenza. Oh. Oh. Comunque ho conosciuto Filippo di TBS. Molto simpatico. Bravo, Phil. Il ragazzo è bravo. Del tuo ufficio? Notifica. David Rubino lo conosce. Chiara fa finta di non conoscere Rubino, ma lo conosce. C'è. Lo conosce. Cos'è Omegle? Cos'è Omegle? Omegle? Fede un consiglio. Quando una donna ti chiede le coccole, falle le coccole. Non si scappa dai doveri di marito. Hai ragione. Grazie Moschi, grazie Teo. Hai ragione, ma te le faccio sempre. Cos'è Omegle? Omegle? È bannabile questa parola? Mi dissocio? È una cosa brutta? Omegle ban? Non so cosa sia, raga. Scusate. Quanto manca, amore? È tre minuti. Tre minuti, tre minuti, tre minuti. È un sito di peni. Ah, ok. È un sito di peni. Ti seguo dai tempi di Bici Piti Mixtape. Il tuo primo concerto a L Forum è stato il regalo di 18 anni di quella grandissima stronza della mia ex ragazza. Bene. Bella merda. A saperlo mi facevo i cazzi miei. Da premettere che ho fatto pure Napoli-Milano. Vabbè, capito, mica colpa mia, scusa, eh. Ma scusa. Bella merda è il concerto. Ma come bella merda? Bella merda è il mio concerto? No, bella merda è la sua ex ragazza. Non lo so, chiediamo. The Days. Bella merda è il concerto o la tua ex? Stai attento a quello che dici, eh. Perché il boomer ci lascia le sudate. Quando il boomer lascia le sudate è... Hai capito? È incorruttibile. Irreprensibile. Ah, raga, abbiamo visto una serie che vi consiglio. Bellissima, ragazzi. Harry? Fede, non si sentono le mie donazioni. Questa è una prova. Eh no, si sentono. Sono d'accordo. È proprio vero che chi ha tutto non apprezza più le cose più importanti. Fede scocco la tua moglie. Ma non è vero. Ma ragazzi, vieni qua a fare... Cioè, dai, ti coccolo, amore. Ieri, tutte le sere, guardiamo la serie delle ancelle e io ti massaggio la pancia. Di che non è vero? Io lo guardo per 10 minuti. No, le guardiamo le serie di più. Però tu ti fai cavolito e guardi le tue cose intanto. Sul telefono. Devi essere tipo, voglio che tu stai così. Mi fai le carezzine. Mi dici, che bella, amore. Non sono fortunato a stare con te. È come siamo fortunati che ci siamo trovati. Tutti i giorni così? Sì. Minchia. Sei proprio... Mi piace proprio vederti. Mi piace proprio il bimbo che abbiamo chiesto. Ediz, buonasera, perché non metti la camo dall'altra parte così che le cose sulle mensole si vedono in forza Juve. Lo so, ho ordinato la Sony 7S Mark III che mi deve arrivare da sti qua da Roma che mi hanno scammato dicendomi che mi arrivava in settimane. Sono passate due settimane. Ho preso l'obiettivo nuovo e l'ho dimenticato a casa, tra l'altro. Cringe. Guarda, cringe, cringe, greve, cringe. Vai, amore, dai, su, mi fai vergognare davanti ai miei amici. Su. Ciao Fede, sono venuto anche io al tuo concerto ma sono stato denunciato per atti osceni e in luogo usato il bagno ma era sporco. Faccina triste. Ma in che senso? Hai fatto proprio fingire. Cioè veramente, guarda, posso dire la Ferry, ecco guarda, vi faccio vedere che cos'è la Ferry quando è su Twitch con me, guarda. Tu sei questa roba qua quando sei su Twitch con me. Vi faccio vedere la Ferry su Twitch. Grazie.